Adesso Barbara, arriva il momento della New Entry, stiamo parlando di Marco Tontodonati. Marco Tontodonati è la nuova leva. L'ultimo acquisto, anche se è arrivato a fine stagione, però sicuramente nella prossima ci sarà. Esatto, le nuove leve, che non sono calcistiche in questo caso, perché anche se lui si occupa di calcio su Rete8 da tantissimi anni, qui per di pomeriggio ha una nuova veste, quindi intervista, fa sempre queste interviste molto interessanti, con il suo vlog, andiamolo a vedere. Il vlog di Marco Tontodonati. Nuovo appuntamento con il mio vlog, tra l'altro saluto tutti gli amici di pomeriggio di Rete8. 56 anni, consulente finanziario del 1995, per 12 ha lavorato a Torino, da due anni è rientrato a Giulia Nove, da inizio anno ricopre la carica di presidente del CONALPA. Con noi Cristiano Gentile, bentrovato. Ciao a tutti. Intanto è un piacere, perché adesso mi deve spiegare bene di cosa si tratta, nel senso, qual è il ruolo del CONALPA? Il CONALPA ha un obiettivo primario, che è quello di sensibilizzare la comunità sui temi riguardo al verde, ovviamente. Quindi questo cerchiamo di farlo attraverso le scuole, attraverso gli scout, quindi cercando di trasferire quelli che sono i valori della tutela del nostro pianeta ai più piccoli che poi possano trasferirlo e farlo loro per quando sono, diciamo, più grandi. E per quanto riguarda invece già gli adulti, dobbiamo cercare di essere più bravi, perché il verde, purtroppo, gli alberi, il paesaggio, li diamo per scontati e tante volte ci dimentichiamo che senza il verde, senza il paesaggio, la nostra vita, il nostro panorama sarebbe davvero triste. Vabbè, intanto ci prendiamo la prima pausa, io direi green, no? Siamo anche con gli amici Davore e Davide, oltre al nostro regista. Quindi adesso una base green, se ci riuscite. Ringrazio Davore e David per il cambio luce, vede, hanno inserito anche... Assolutamente sì, li ringrazio molto, molto, sento molto a mio agio. Per gli amici della radio che possono solo ascoltare e quindi non vedo, però per quelli che ci guardano su Rete 8 siamo diventati verdi all'improvviso. Io non so se quanta gente può essere a conoscenza di quanto sia importante la potatura delle piante, degli alberi, perché in qualche modo a volte si pensa che l'albero che va di sua natura, cresce verso l'alto, possa essere un problema, perché ci sono tante persone che magari vedono la punta dell'albero piegarsi al vento. Beh, a volte però diventa un problema. Quando c'è il vento fortissimo, insomma, non dipende dall'altezza dell'albero, insomma, se poi l'albero... No, l'albero per assurdo è come con le case antisismiche, no? La casa antisismica si deve muovere quando c'è la scossa. L'albero allo stesso modo, quando c'è il vento, lui si flette proprio per evitare. E tante persone cosa fanno? La famosa capitozzatura. Cioè pensano di bloccare questo flettere dell'albero, non rendendosi conto che stanno facendo due cose gravissime. Una, quella di bloccare la naturale aspirazione dell'albero verso l'alto, e quella di indebolirlo perché a quel punto l'albero, non potendo più crescere, rimane... si irrigidisce, diciamo così, perché gli blocchi... Quando da piccoli ci dicevano ti blocco la crescita, quando facevamo qualcosa di grave a casa. Ecco, e lì facciamo la stessa cosa. Sempre con Cristiano Gentile. Allora, io da pescarese ho sofferto e continuo a soffrire quando passo davanti alla pineta d'Annunziana per l'incendio di qualche anno fa, perché è stato davvero devastante. Suppongo che per lei sia stata una tragedia vedere quelle immagini e adesso passare lì e guardare quello che è rimasto. È davvero ineffabile. Cioè non si trovano le parole per vedere una bellezza del genere, un polmone così importante per la città di Pescara, distrutto in quel modo. Torno a ripetere, credo che gli amministratori debbano rimettere il verde al centro del progetto città e quindi non sottovalutare nulla. Premesso poi il vandalismo... Ma si è fatto un'idea di quello che è accaduto davvero a Pescara? Le idee sono state effettivamente tante perché il caldo, come vediamo in tante città, io lo scorso anno a settembre sono stato in Sicilia e girando per la Sicilia andavo da Trapani a San Pitolo Capo per il Cus Cus Festival. Quindi lei non si occupa solo di piante, a volte mangia anche qualcosa. Mangio anche qualcosa. Di non verde. Assolutamente sì e quindi mentre andavo... Anche perché abbiamo un amico in comune che salutiamo il giornalista collega Enzo De Dominicis che è una buona forchetta e quindi si è frequenta De Dominicis vuol dire che anche lui mangia benino per così dire. E quindi c'era tutta la collina, c'era questo cerchio di fuoco che sembrava essere iniziato dalla punta e scendeva piano piano, quindi lì tra il caldo, l'incuria perché basta una cicca di sigaretta, una busta di plastica lasciata appunto vicino alla cicca di sigaretta o piuttosto che qualche vandalo che lo fa appositamente a 40 gradi e purtroppo nella pineta d'Annunziana pensiamo sia successo qualcosa del genere. Ci sono stati incontri, incontri, incontri. Quindi diamo gli alberi, il verde in generale lo diamo per scontato perché la natura in qualche modo sembra che sempre possa recuperare però in alcuni casi poi quell'odore che si sente di bruciato quando passiamo... Quanti anni dovremo attendere per vedere rinascere la pineta, quella zona della pineta d'Annunziana? Sono state fatte delle stime e andiamo dai 30 ai 50 anni. L'albero per sua caratteristica ha questa capacità di trasferire la sua memoria alle future generazioni? È per questo, perché l'albero mette tempo a crescere e poi però è lento ma inesorabile. È solo che noi andiamo troppo di fretta per gli alberi. Come è messo il verde in Abruzzo rispetto alle altre regioni italiane? Ma diciamo che dobbiamo distinguere due situazioni, cioè la situazione cittadina, quindi urbana e la situazione invece... Parchi? Parchi. Situazione parchi siamo messi benissimo direi. Parliamo solo del verde cittadino. Il verde cittadino purtroppo è messo in secondo piano, quindi se devo rifare un parcheggio taglio gli alberi, se devo rifare una strada i pini. Però chiedo scusa Presidente, non vi sentite anche come dire, come quelli che bloccano il futuro, bloccano i lavori, bloccano, insomma voi siete un po' individuati come quelli che bloccano. Allora, io quando ho preso questa carica ho parlato proprio di questo. Io non voglio collaborare, non voglio essere il censore, io sono stanco di tutti quelli che dicono no, voglio capire, perché poi c'è un tema sul verde, che noi possiamo per motivi effettivamente importanti tagliare gli alberi, quindi se c'è un discorso di sicurezza, se c'è un discorso di viabilità, ma non viabilità la strada più larga, la strada più comoda. No, ma un problema dove a Giulianova ad esempio succedeva che c'era una strada a doppio senso, dove gli autobus non riuscivano a passare perché c'erano dei pini che stringevano la carreggiata, e quindi lì c'era un problema di sicurezza. E poi c'è un discorso però di sostituzione, cioè io taglio degli alberi ma devo sostituirli e quindi tutelare, trovare un'area per ridare quelle verde, quindi quella quantità di CO2 da assorbire, perché adesso andiamo verso la bella stagione, e se non troviamo un albero dove metterci all'ombra moriamo di caldo. Quindi ecco, questa è un po' la situazione, solo che i comuni, le amministrazioni solitamente sono molto attente ai discorsi di tante volte di cementificazione. Io non sono contrario a questo, se c'è l'esigenza abitativa ci mancherebbe, sono temi sempre importanti, però dobbiamo trovare il giusto compromesso. Siamo arrivati all'ultimo blocco, ma ci sarebbero tantissime cose da affrontare, poi l'abbiamo fatto in maniera spero piacevole con il Presidente, con Alba, Cristiano Gentile. Questa è una mia curiosità davvero, abitando vicino ad una zona dove ci sono tanti pini, e io ho sempre visto le strade distrutte dalle radici dei pini, ma siamo nel 2024, possibile che nessuno abbia trovato una soluzione per far rimanere i pini lì dove stanno e anche la strada? La soluzione assolutamente esiste. La caratteristica del pino è quello di avere un apparato radicale superficiale e quindi non va in profondità, ma si allarga sulla superficie e ha la caratteristica che ha reazione al peso che gli passa sopra. Quindi si sente la macchina che passa sopra, lui reagisce e fa come se fosse una frattura sulla radice e quindi crea un blocco più importante per irrobustire la radice stessa, che magari si è spezzata. Come fare? Basterebbe creare intorno al pino una situazione di superficie, un filtro, una base come se fosse un vespaio areato, come si fa nelle case, creare una superficie di spazio tra la radice e la superficie dell'asfalto e l'asfalto. Ok, creare un intercapedine, lui non reagisce più. La radice non va più in alto, per capirci. Non si creano più queste fratture e quindi rimarrebbe... Assolutamente sì, assolutamente sì. Orizzontale. Per quanto riguarda... Ma hanno cominciato a fare... Allora, i comuni più illuminati sì, perché il problema qual è? Che tagliare l'albero costa 300 euro, fare un lavoro del genere ne costa molto di più perché devi fare dei lavori tra togliere l'asfalto, pulire intorno, mettere tutta una serie di strutture che possano sollevare l'asfalto e poi sopra riasfaltare. E quindi i costi... È sempre un fatto di soldi, alla fine si va a finire sempre lì. Assolutamente, assolutamente sì. E quindi in periodi dove non si conosceva la natura del pino e dell'apparato, della sua reazione, dell'apparato radicale, sono stati piantati anche i bordi delle strade. E quindi quello ha creato sicuramente un problema. Quindi lì c'è da fare o questi interventi dove è possibile, perché poi non è sempre possibile, ma comunque la soluzione esiste assolutamente. Però bisogna avere la voglia rimettendo il verde al primo posto, altrimenti diventiamo grigi. Come dice lei, mettiamo il verde al primo posto, ma lei è uno di quelli che abbraccia le piante, perché ci sono anche... ho un'amica che abbraccia le piante. Anche qui Davore e David, uno dei due, solo lui, solo lui abbraccia le piante. Solo quello più intelligente. Quindi lei abbraccia ogni tanto qualche pianta. Io so solo una cosa, che il mio colore preferito, ma questo prima di diventare presidente del Conalpa, era il verde. E il posto che mi dà più pace, mi rilassa di più, è essere tra gli alberi, in un parco. Ma non è retorica, non sto parlando in maniera commerciale, non sto vendendo nulla. È proprio una mia sensazione. Stare nel verde, non so se lei è stato mai alla Scarzuola. No, dove si trova? La Scarzuola è in Umbria, ed è questo giardino esoterico, e c'è un momento dove il proprietario della Scarzuola racconta del fatto che chi, come me, lavora tanto con la testa, ha bisogno di stare nel verde, di abbracciare gli alberi, perché scarica tutta quella tensione che ha qui. Perché noi abbiamo il problema che rimane tutto qui, infatti un'altra cosa che mi rilassa è quello di fare i lavori a casa, o fare il giardinaggio a casa, perché ho la fortuna di avere un piccolo giardino. E allora, mi raccomando, qui Davore e David, continuate ad abbracciare tutti gli alberi che troverete per strada, anche Luca Riccia, il regista, mi raccomando, e anche voi che ci ascoltate, fate un abbraccio a qualche albero ogni tanto. Scherzi a parte, grazie a Cristiano Gentile, salutiamo anche gli amici di Pomeriggio su Rete 8 che ci stanno guardando. Il vlog di Marco Tontodonato.